Non so né chi ha le attivie nel centrodestra né chi ha le attivie nel centrosinistra né chi ha le attivie per il centro, so che la gente, il popolo, i cittadini certamente non sono soddisfatti o contenti di questo andamento politico e quindi secondo me al di là del fatto che le amministrative hanno delle problematiche locali, quindi hanno anche degli interessi personali che certe volte sovrastano quelle che possono essere le ideologie o la stessa politica o il rapporto che il cittadino ha con la politica o con i partiti, certamente… Potranno essere considerate un test per i partiti oppure le amministrative seguono una logica tutta personale, tutta individuale che non si può collegare alle politiche? Ma guardi, io credo che tutti i partiti all'indomani del test diranno che hanno vinto, perché faranno i confronti o con tre anni fa o con cinque anni fa o con dieci anni fa diranno tutti quanti che c'è questa evoluzione, che c'è questo cambiamento, poi del resto che non tiri un'area facile e serena e dimostrata anche dal fatto che sia il PD, sia il PDL, sia il centro, hanno già detto che loro azzerano, che loro rivedono, che c'è il nuovo, quindi se c'è il nuovo, se loro prospettano il nuovo prima delle elezioni, significa che ciò che sta non va bene. Ecco, diciamo che effettivamente è l'elemento che stupisce sempre, che quando bisogna commentare i risultati elettorali scopriamo che la matematica invece è un'opinione. Certamente, è vero? Sì, sì, sì. Infatti questo l'abbiamo sempre verificato, ci sarà secondo lei un alto tasso di astensionismo? Ma non credo, ci sarà un tasso certamente di astensionismo, soprattutto nei paesi, nelle realtà dove si farà sentire la bella giornata e il caldo e quindi la gente smuoverà di mandata a quel paese, non vengo a votare, però io mi auguro che questo non accada, perché? Perché altrimenti si dà manforte soltanto a chi ha un fortissimo interesse a mantenere lo statu quo, o a mantenere la propria posizione o a conquistare la propria posizione, quindi io invito i cittadini a partecipare in massa, esprimendo liberamente, democraticamente il loro volto, la loro opinione. Che la matematica in campagna elettorale, ma dopo, a risultati ottenuti non sia un'opinione, è difficile discutere, perché in effetti ognuno tende di giustificare il perché, il per come e di proseguire in questo cammino. Una cosa è certa, che va rivisto completamente l'assetto, guardate, non è possibile, faccio per dire, che il Presidente della provincia non possa candidarsi al Parlamento, il parlamentare può essere però Presidente della provincia. la stessa cosa vale per il Sindaco, che ci debbano essere delle dimissioni, non so quanti mesi prima, che questo accada, va dato una regola, una regola, per tutto, per tutti, altrimenti le regole, come purtroppo il caso nostro, del nostro Paese, sono saltate, sono saltate le regole, c'è piena confusione. E il cittadino questo comincia ad avvertire, comincia ad avvertire perché alla burocrazia si aggiunge la disorganizzazione, si aggiungono poi i disvalori che stanno emergendo e tutto questo è un fatto negativo, non è un fatto positivo. Che risultati invece si aspetta, Presidente, dal suo movimento Schittulli, visto che in alcuni comuni non c'è stato sulle candidature l'asse che avremmo potuto considerare naturale, l'asse centrodestra Movimento Schittulli, anzi PDL Movimento Schittulli è il caso di dire. Ma guardate, questo non è vero, obiettivamente non è vero, perché nella maggior parte dei casi il movimento politico Schittulli è nella stessa coalizione del PDL, ma nella maggior parte, non nella maggior parte dei casi, nella maggioranza assoluta dei casi ci sono alcune situazioni locali che per motivi anche certe volte interpersonali non hanno consentito questo abbinamento. Io poi mi riservo dopo le elezioni con molta obiettività di rapportare i risultati e di dare anche una spiegazione ai risultati e di dire anche qualcosa in più se sarà il caso. Ecco Presidente, per tornare sul contenimento dei costi della politica, abbiamo dato un dato che credo sia molto significativo, il taglio delle auto blu che è stato tra l'altro anche una delle segnalazioni delle denunce più frequenti in questa trasmissione, un taglio molto corposo per quanto riguarda la provincia di Bari, da 23 a 6. Quella denuncia non riguardava la provincia. No, 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 però riguarda, siccome stiamo parlando del taglio delle auto blu della provincia di Bari. Quello abbiamo fatto indipendentemente da tanto, l'abbiamo fatto già un anno fa, ma dovete considerare questo, che quando io mi sono insediato c'era già la crisi economico-finanziare, io ho cercato di provvedere nei limiti del consentito e per quello che era il mio potere di restringere al massimo i costi, da 23 auto a 6 auto. E adesso tutti in bicicletta, come si muoveranno tutti i rappresentanti a te? Ma anche io mi sposto con il trenino da Bari a Palese, quindi non vedo, non trovo grosse difficoltà. Certo, quando ci sono degli impegni uno a cavallata all'altro, allora ci si serve dell'auto, altrimenti ma anche la moto, io ora con queste belle giornate ho già detto a mio figlio di tirarmi fuori la moto, quindi non ci sono problemi, ma non credo che… Abbiamo un presidente sprint, ma non credo che sabato pomeriggio ho avuto anche il tempo di andare a giocare a pallone, quindi… Va bene, allora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi ancora qui con il presidente Scrittulli, restate con noi.